e allora buonasera a tutti a tutte benvenuti o bentornati alla ventesima edizione dell'ischia film festival è un piacere avervi qui questa sera per un progetto a cui il festival tiene veramente molto abbiamo avuto modo poc'anzi di di presentarlo il direttore artistico di parlarne e di sottolineare quanto il festival da vent'anni oltre a lavorare su quella che la valorizzazione dei territori attraverso il cinema lavori con grande attenzione su quelle che sono le tematiche sociali per cui io ringrazio di cuore gli ospiti di questa sera la regista angela bevi l'acqua e gli attori luigi esposito rosario mora in arte gg ross per cui vi chiedo un applauso e a loro chiedo di accomodarsi qui a fianco a me perché abbiamo il piacere di parlare dei loro amici per la pelle un progetto lo dico subito fortemente voluto da fondazione melanoma e istituto per la lotta ai tumori pascale di napoli un progetto cinematografico che a differenza davvero di quello che spesso si vede tratta la tematica con una grandissima leggerezza che non vuol dire non portare rispetto anzi e quella leggerezza calvinana per l'appunto del cercare di togliere peso no alla vita per arrivare poi a toccare quelle che sono le tematiche più importanti e più profonde e devo dire il corto e adesso ne parleremo ne tocca veramente molte in particolare io volevo partire con te angela rispetto appunto a quello che è stato lo sguardo rispetto alla malattia oncologica perché quello che racconti attraverso i due co protagonisti sono punti di vista rispetto alla alla questione insomma la patologia molto distanti perché sono due caratteri molto distanti perché poi e naturalmente quando si parla di malattia si parla di vite umane si parla di caratteri di natura e e quindi volevo chiederti in fase proprio di scrittura innanzitutto se avete lavorato insieme si è diventato un po un team allargato quindi loro come hanno influito anche nella fase proprio di scrittura dei personaggi e poi se ci racconti appunto l'idea di questa coppia di non ancora amici ma che in realtà come dice per l'appunto il titolo del corto lo diventeranno davvero per la pelle allora innanzitutto il corto è ispirato ad una storia vera una storia reale ed è dedicato a gabrile murgolo che è un è stato un paziente del professor paolo ascierto che purtroppo si è spento a soli 17 anni quindi tutto parte da una storia reale e quello che mi è piaciuto subito appunto che il concetto che due persone che si incontrano a causa di questo male riescano da questo male a ricavarne il bene la cosa bella proprio sì loro sono toni e flavio sono appunto l'uno l'opposto dell'altro toni è più estroverso ha una famiglia mentre flavio è un chiuso un introverso non ha quasi paura della della sua ombra e grazie a toni riesce ad aprirsi e a a dare una svolta alla sua vita alla vita che quindi in realtà si poi dopo conto di non aver mai vissuto appieno quindi questa anche questo posto vita morte c'è un po in tutti gli aspetti del anche perché parliamo della questione ecco entrando più nello specifico del melanoma del melanoma metastatico senza anticipare troppo ma questo lo possiamo dire in particolar modo è uno di quei casi in cui veramente si parla di 50 per cento di possibilità chiaramente la ricerca sta facendo grandi passi da gigante ma ancora oggi questa è la soglia e allora vengo a voi che avete interpretato per l'appunto questi due ragazzi che scoprono in apertura appunto del corto di avere in questo momento come dire questo male che sta iniziando a lavorare su di loro e quindi si interrogano poi chiaramente su quello che sarà il futuro volevo chiedervi se avete avuto modo di fare ricerca di conoscere di incontrare dei pazienti come avete lavorato eventualmente con loro perché naturalmente insomma riuscire ad entrare in empatia con la malattia è sempre molto complicato io credo che siate riusciti veramente a restituire una grande verità nonostante sia un piccolo film di fiction buonasera a tutti prima di tutto e grazie insomma per per essere qui con noi stasera noi in verità abbiamo fatto un grande lavoro di preparazione sui personaggi con con angela e con una insomma con la sceneggiatrice chiara macor e il lavoro fatto su sulla malattia in realtà lo abbiamo fatto in tutti questi anni perché noi con il professore paolo ascierto che ha ideato il corto collaboriamo da da più di dieci anni sì 15 anni insomma con la fondazione melanoma per cui spesso siamo andati in giro nei reparti del del pascale o abbiamo fatto incontri con i pazienti poi purtroppo non di melanoma ma ma di tumore chi in famiglia insomma o di vicino o di o personalmente o nella sfera della famiglia delle amicizie insomma avuto a che fare per cui noi abbiamo cercato insieme ad angela di lavorare in modo empatico con la malattia il malato ma ma lasciando tralasciando la parte patetica e alleggerendo ove possibile proprio perché era la chiave dei due personaggi uno forse un po più più leggero tra virgolette insomma che che toni e l'altro io sono flavio sono un po più ipocondriaco ma a prescindere dalla malattia certo un po mi ci rivedo anche in questo questa cosa per cui non è stato molto difficile calarsi nel personaggio però sembrerà assurdo nonostante abbiamo trattato e toccato una tematica molto delicata ci siamo divertiti davvero tanto a a lavorarci su perché anche se siamo come dire come attori si è costretti anche a fare cose toste ma devi sempre pur divertirti insomma e empatizzare con la malattia e con avendo un grande rispetto chiaramente ripeto per perché si ammala ma a questo punto io rimango ancora sul sul titolo nel senso che chiaramente la quello che si vede è una un'equipe di grandi professionisti della medicina che sono al servizio naturalmente di chi in questo momento è paziente ma una cura un'altra tipologia di cura per l'appunto diventa l'amicizia e soprattutto un'altra parola forte secondo me che centrale in questo piccolo lavoro è fiducia e speranza sono queste un po le parole a cui attorno alla quale diciamo il film lavora quindi in questo senso credo che non sia stato complicato lavorare come dire per fingere un'amicizia nel momento in cui un'amicizia naturalmente non solo professionalmente ma penso ecco che sia umanamente soprattutto un'amicizia forte volevo appunto ritornare su quanto si diceva cioè su cercare di divertirsi lavorando quindi come siete riusciti in maniera così davvero naturale a restituire una coppia di amicizia in fieri perché appunto all'inizio i due non si conoscono non si sopportano bravo e con questa leggerezza possiamo dire comicità lo possiamo tranquillamente ecco perché lo è non è un film comico ma è una piccola commedia molto dolce come avete lavorato appunto per per toccare questi punti qui sì buonasera salve a tutti e grazie per essere qui come diceva il mio amico e collega ros ma più amico in questo caso come abbiamo lavorato in modo abbastanza semplice sotto questo punto di vista perché ormai dopo tanti anni insomma io e ros lo diciamo spesso ci capiamo con uno sguardo per cui creare un rapporto empatico tra due personaggi è stato quantomeno semplice la difficoltà è nata nel momento in cui questa speranza di cui parlavi tu si lega alla disperazione e porta a chiedersi se dovesse finire tutto questo tempo come lo occuperemmo a fare cosa e questo è un è un light motive molto presente nel film specialmente in uno dei due personaggi che sprona l'altro amico appunto a godersi la vita perché se è vero che c'è un 50 per cento di probabilità di morire c'è un 50 per cento di probabilità di vivere e in entrambi i casi bisogna godersi appieno ciò che resta o ciò che è che si avrà come dono in in futuro per cui insomma lavorare sul nostro rapporto è stato molto molto semplice anche se angela non si direbbe ma è stata una regista molto molto rigorosa perché noi veniamo dal mondo della comicità insomma veniamo da studi di recitazione molto più seriosi e seri però insomma dopo tanti anni di tv e di comicità capitava a volte che non gli dicessimo angela ma in questo punto aggiungere una battuta lo cioè lei ma questa voce anche che non ne apparteneva però grazie a questo rigore probabilmente siamo riusciti a restituire forse un rapporto così sincero e pulito insomma allora io ritorno a te angela perché al di là di questo rigore che scopriamo e c'è un altro elemento questa angelica invece no è esattamente e c'è un elemento che poi in realtà chiude il film quindi è importante che nessuno lasci la sala appena partono i titoli di coda anzi perché c'è un messaggio ancora importante e forse il più importante di tutti proprio perché in quel momento c'è un momento di grande divulgazione scientifica c'è un momento di come dire in cui si sottolinea quanto sia importante sostenere la ricerca in questo momento allora volevo chiederti per l'appunto un progetto cinematografico che parte siamo felicissimi che tocchi i festival ma volevo chiederti come pensate anche di veicolarlo perché un piccolo lavoro del genere veramente può essere un faro no per per parlare della questione perché è importante e fondamentale fare informazione su quello che sono le questioni scientifiche in questo senso sì assolutamente secondo me anche attraverso le piattaforme quello sicuramente e poi credo che comunque la fondazione melanoma lo porterà in giro ai convegni ai congressi e però appunto per farlo per farlo conoscere al grande pubblico secondo me attraverso anche internet le piattaforme è importante oltre che ovviamente attraverso i festival anche perché purtroppo è un qualcosa che tocca a livello generazionale sostanzialmente tutti per cui appunto abbraccia ai noi un pubblico molto 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 grande però è interessante che a mio avviso sin da più piccoli si possa vedere un lavoro del genere chiaramente loro sono due icone che sono molto amati dai giovani in questo senso è anche interessante proprio poterlo veicolare attraverso volti come come loro e a voi voglio invece ritornare in chiusura perché prima in una chiacchierata ce lo stavamo anticipando e dicevo in apertura uno dei modi in cui ogni volta ricorre la questione non come si legge la questione oncologica e con una terminologia da guerra la battaglia contro il male in questo senso secondo me la cosa interessante è che un lavoro del genere guarda con uno sguardo come dire differente guarda da un altro fa parallasse diciamo e quelle che diventano le tematiche della vera battaglia sono per l'appunto l'amore e soprattutto la il sostenersi nonostante non ci si conosca quindi si abbassa la questione del no che anzi in questo periodo in questo momento storico non ci piace particolarmente le armi della guerra no del concetto della guerra ma anzi lo possiamo dire tranquillamente anche una piccola storia d'amore quindi volevo volevo chiedervi se lavorando su un qualcosa del genere quando poi arriva allo spettatore può un piccolo lavoro come questo cercare di cambiare anche proprio il nostro punto di osservazione perché davvero io credo che non se ne possa più di interpretare la malattia come una guerra verso qualcosa ma anzi come dicevi tu prima bisogna cercare di porre l'attenzione su quanto resta e su quello che è bello che in quel momento qualcuno si possa vivere in realtà il concetto un po di amore e morte quello che ritorna sempre da da sempre è detto una cosa giustissima in questo piccolo corto abbiamo cercato anche chiara nella scrittura di riempire quel famoso 50 per cento di vita che resta con qualcosa che valga la pena vivere che in questo caso è l'amore che talvolta davvero diventa più forte della morte e che a volte aiuta anche ad arrivarci perché in quel famoso 50 per cento puoi essere da una parte o dall'altra in entrambi i casi l'amore o l'amicizia che comunque una forma molto viva molto pulsante di amore ti aiuta probabilmente ad ad affrontare qualsiasi percorso che come dicevi tu meglio non chiamare battaglia soprattutto in questo momento e allora non resta che guardarlo amici per la pelle noi vi ringraziamo di cuore per essere stati qui questa sera no c'è sì 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 quindi questa è una notizia che possiamo dare diventeremo ricchi no scusate scusate no scusate no e allora ne siamo ne siamo felici ne siamo felici bella notizia è un tema che ho toccato proprio perché credo seriamente che un lavoro del genere debba avere una grazie lui è mio figlio nel corto è questo e questo è importante anche per noi per il festival perché i festival cinematografici a questo dovrebbero servire per cui certo sì è il tema assolutamente certo sì sì e ripeto siamo felici che che la ventesima edizione del del festival possa essere una vetrina importante per cercare appunto le due che citavi sono due tra le più importanti piattaforme digitali per insomma tra l'altro ha detto la cosa più importante che lui si impegnerà a produrre il lungometraggio tratto da questo corto anche questo lo registriamo e ne siamo contenti e l'invito naturalmente sarà presentarlo qui all'isca film festival c'è un impegno prodotto sì e da dietro non sentono infatti che non vieni certo no non volevo assolutamente però è importante dirlo che coloro sono sono mesi che con gg ross stiamo ragionando su un film da fare insieme perché poi loro muovedete nel film sono sorprendenti perché li conosciamo molto sulla televisione su cose un po diverse da quello che è il cinema io li ho visti anche a teatro tra le altre cose al teatro bellini qualche mese fa quindi mi ha spinto molto però come dire stiamo capendo l'idea per produrre un film insieme faccio invece una cosa andone perché se non è peggioro parte certamente no no ma io a parlare non so parlare però recita però a recitare sì e quindi ti stiamo per vedere ne siamo contenti grazie davvero di cuore per essere grazie qui a presentare il film e buona visione